Gli Aic rinnoverà? Io penso che ci sono buone possibilità. Il giocatore ha fatto bene un anno alla Fiorentina, possiamo dire ha fatto benissimo, sei mesi, il mister Montella lo ha rilanciato nel momento più basso della sua carriera. Non è solo un discorso di riconoscenza, è anche un discorso di interesse personale del giocatore. Ha bisogno di trovare la continuità per poi andare ad affermarsi altrove. Jovetic ha fatto in questo modo, è rimasto tanti anni a Firenze, è diventato un grande campione ed è andato a fare le fortune altrove. Penso che Adam Gli Aic debba fare la stessa cosa. Ovviamente un caso Montelivo-Biss non ci sarà? No, assolutamente. La società lo esclude in tutti i modi, è questo che filtra dalla società e anche tutti i tifosi non vogliano che si ripeta una situazione di questo tipo perché rimangono molti rancori, perché il Milan è una diretta concorrente, ormai è una squadra al pari livello della Fiorentina, forse la Fiorentina ha anche qualcosa in più sulla carta. Quindi veramente da auspicarsi che Li Aic non possa andare al Milan a parametro zero il prossimo anno ma nemmeno adesso, qualora il Milan dovesse alzare l'offerta.